parliamo dello strumento selezione tracciato e dello strumento selezione diretta ora nel momento in cui selezioniamo uno di questi due strumenti vedete che compaiono le opzioni per le forme per cui questi due strumenti servono solamente se abbiamo in campo delle forme tracciamo una forma giusto per avere un riferimento di quello che stiamo facendo magari ad aumentare un po la traccia così la vediamo bene ok questo strumento si richiama col pulsante a dalla nostra tastiera per cui lo vado a premere lo strumento selezione tracciato serve semplicemente per selezionare e trasportare in giro un tracciato così il tracciato è deselezionato se io vado nella tab dei tracciati posso selezionarlo da qui nel momento in cui è deselezionato vedete che posso selezionarlo anche direttamente dentro nel mio riquadro la faccenda si fa più interessante se io per esempio tengo premuto command vedete che la freccina il cursore cambia se io seleziono lo strumento selezione diretta andrò ancora a selezionare il tracciato però andrò ad agire sui singoli punti e potrò quindi gestirli a mio piacimento io questa opzione la lascio abilitata non gli dico di non mostrare più perché voglio essere avvisato quando fa questa cosa perché potrei farla per sbaglio trascinando qualcosa e quindi preferisco avere quell'avviso ma potete anche toglierlo una volta che gliel'abbiamo gli abbiamo detto ok la prima volta lo strumento selezione diretta e abilitato e io posso trasformare liberamente la mia forma volendo posso anche prendere lo strumento penna e aggiungere dei punti in questo caso ho aggiunto un punto che oltretutto è anche un punto con una curva di besie vediamo per esempio nel momento in cui io ho una forma ellittica se io vado a selezionare i punti sono già dei punti con delle curve besie e io posso agire su queste curve e trasformare la forma come più mi piace posso anche per esempio selezionare un singolo punto e premendo delete cancellarlo in questo modo mi rimane solamente questa parte della forma tutto quello che aveva a che fare con questa maniglia viene cancellato questo punto con lo strumento penna io potrei richiudere il mio tracciato e ho creato una forma completamente diversa e posso continuare selezionando punto per punto posso continuare a modificarla a mio piacimento e questa essendo una forma vettoriale non perde di qualità per quante modifiche io gli faccia un po' di qualità per quante modifiche io gli faccio un po' di qualità per quante modifiche io gli faccio